ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi mi scuso già per l'audio perché si sentirà un pochino di rimbombo questo è perché non sto riuscendo molto e risolvere questa cosa con una stanza nuova in cui giro sto mettendo tappeti su tappeti ma non stanno facendo molto quindi non lo so, vedrò cosa fare, tanto portate pazienza ed è per questo che sto facendo anche molti video di whisper in close up in questo modo lì così sente un pochino di meno allora, oggi sarà un nuovo haul make up uso è da tantissimo tempo che non lo faccio e ne approfitterò anche per far vedere due prodottini che non ho comprato recentemente ma che mi chiedete sempre cosa sono quindi partiamo subito da quelli quindi cercherò di fare molti humorini ecco ciò che ho comprato allora l'illuminante che ho addosso ora è quello che vi ho addosso anche nel video di visual mark rounds e nel video no, nel video nella channel sono sicuro ed è questo qui l'illuminante che ho addosso dentro è fatto dentro è fatto ecco in questo modo con questo azzurro, giallo, rosa e rosa più scuro e io semplicemente faccio così e lo metto con il dito sulle guance io mi trovo sempre benissimo con le dita a fare sia spalmare il fondotinta sia mettere l'illuminante sia mettere l'ombretto più luminoso ecco mi trovo sempre benissimo io uso quando posso uso le sita al posto dei pennelli sempre sempre nella challenge nell'ultima challenge indossavo questo rossetto qui questo rosso splendido 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 credo sia il mio sopravvedito in assoluto della rouge paisae numero 601 della collezione rouge intense mountain mat 601 rouge paisae magari ve lo scrivo anche dopo in descrizione qual è bellissima non so quanto siete abituati a spendere per i trucchi io non sono abituata a spendere 18 euro però dopo averlo provato probabilmente quando lo finirò lo ricomprerò perché mi piace da impattire questo colore passiamo agli acquisti nuovi sono passata da caddy in obvious da caddy cercavo lo stand della essence ma era innovato però ho trovato questo siero qui dell'equilibra che consiglia tanto alle hiltul l'ho provato solo due volte quindi non vi so dire se effettivamente mi ci trovo bene o no rispetto ai sieri normali è un po' meno liquido anche se comunque i sieri sono di loro caratteristica molto liquidi e molto concentrati è un po' meno davvero questo costa 12 euro, ma io l'ho pagato 7 per dire l'offerta come in quasi tutti i siri è 30 ml i siri di per sé costano molto, quindi questo costa veramente poco per essere un siro viso è un siro vellutante che levica e illumina la pelle del viso acido ianuronico, alto peso, medio peso e basso peso cosa vuol dire? alto peso vuol dire alto peso molecolare il peso molecolare definito è il peso della molecola questo cosa significa a livello di cosmesi? a livello di cosmesi significa che quelli ad alto peso molecolare che saranno anche più grossi, quindi vanno a depositarsi nello strato più esterno della cute quelli a medio peso molecolare andranno un po' più a fondo e quelli a basso peso molecolare andranno più in profondità questo permette al latino di fare effetto a tre livelli differenti della cute giusto per se qualcuno lo sapesse ecco perché di solito comunque le case cosmetiche usano paroloni così a caso per fare un po' di fighi in realtà adesso magari lo saprete cosa vuol dire, forse lo sapevate già forse lo sapevate già anche da servo siro viso lo siro viso serve a potenziare gli effetti di ciò che metterete sulla pelle dopo, quindi della crema viso per questo in molti consigliano anche, non solo, però serve anche di potenziare appunto la crema viso per questo è consigliato appunto usare crema e siro della stessa linea appunto per potenziare gli effetti e inoltre iniziano anche la caratteristica appunto di essere, di volerci ne veramente poco e di essere molto concentrato infatti ha una concentrazione molto più grande di i suoi principi attivi e dovrebbe appunto penetrare meglio nella pelle ed essere più efficace nella pelle e far appunto penetrare meglio anche la crema sempre da gatti ero da tantissimo attratta dalle ditte labbra della Deborah e caso vuole che fosse un'offerta a 7 euro in posto di 11 euro 7 euro 7 euro un prezzo basto per la ditta sopra che solito sono sui 15 e non ho molte cose della Deborah però con tutte le cose che ho della Deborah mi sono trovata sempre molto molto bene è proprio una marca molto sottovalutata bellissima ho preso questo ho preso questa tinta labbra che è la numero 08 che è questa che indosso è un malva scuro direi mi piace tantissimo è no transfer e dura moltissimo col cibo ovviamente più mangiato è cibo odioso più tende ad andare via però ha resistito abbastanza bene a un aperitivo comunque è sempre piena di roba grasse e mi piace tantissimo il colore perchè non è chiaro come quello della della voce di tira ma è un po' più scuro è molto intenso ed è bellissimo secondo me e poi è del numero 08 appunto e poi ho preso questo qui la scena è stata che non vi faccio i suoni del 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 rossetto perchè no questo va l'altro faceva un suono chiassosissimo come odore hanno un odore se proprio lo sentite non lo sentite da vicino 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 sanno un po' di alcol però sulle labbra non si sente assolutamente niente e quindi cioè se quando l'aprite l'ho notato vedo proprio che hanno saluto molto vicino questa è la numero 06 ed è un rosso splendido acceso non passi all'asservato se riesco poi probabilmente mi scordi di mettere la foto in cuoccio indosso e rispetto a questo questo ha un effetto velluto incredibile che poi vedete sulle labbra proprio il velluto è splendido splendido completamente innamorato poi poi da Catti ho preso anche delle altre cosine che mi servivano insomma di routine ed avendo spesso più di 25€ Catti aveva l'offerta che ti regalavano un profumo che poi sono dei tester che dovevano buttare via vedete ce ne erano anche lì più costosi però sinceramente non mi piacevano questa la tepora mi piaceva abbastanza anche se devo dire la verità non hanno tanti profumi questo si chiama cordo di rosa violetta quindi perfetto per la primavera è molto molto floreale mi piace molto anche se ripeto il mondo la tipa da profumi generale non lo so non mi appassiono di niente non ma non ma non 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 ecco mettiamo poi un altro video di profumi ditemi se vi può vedere l'idea questa volta con una piccola particolare in più mettiamola così ok passiamo a essence siamo già a quasi 20 minuti di video allora essence ho preso partiamo dalle cose base partiamo dalle unghie ho preso questo smalto io sono piena di questi smalti tipo gel dell essence è un rosa tenendo un po' il rosso molto estivo il livello il livello di questi smalti che puzzano in una maniera infatti il nostro sempre la mascherina sempre il numero 90 hot red chili ne vedi quasi un rosso molto carino non vedo che non so quando avrò un minimissimo di abbronzatore sempre per le unghie ho preso questi stickers questi questi sono e anche per le dita sono fighissimi sono molto estivi molto cocella 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 beh vabbè lasciate perdere e comunque molto un po' style e penso le sono verdi video di tapping perché ci tengo molto all'estetica infatti mi dispiace per le mie unghie però non ho proprio tempo di rifarmene io ho preso anche questi che sono da mettere su questa parte l'unghia mi piace tantissimo non vedo l'ora di provarli poi 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 ho preso ho preso questa matita per gli occhi che devo vivere la verità è stata una delusione incredibile la devo provare di giorno ma di sera non si vede praticamente niente sugli occhi vabbè qui è un peccato perché mi ispirava tantissimo una matita c'è rose gold mi ispirava tantissimo so che Nablani ha una però non ha questo costo ecco non si vede praticamente niente sugli occhi quindi sono abbastanza deluso qui vabbè non costa niente quindi ok però ero un sacco carica devo dire la verità in negozi sembrava un po' più un po' più carica l'ho provata sugli occhi di mo poi allora ho preso due spray qui questo non so se sia della nuova collezione comunque è un primer con acqua e cocco che ha un odore buonissimo ed è super fresco non ho mai preso un primer in vita mia quindi non mi so dire sia buono però ha un buon odore ed è sempre molto fresco penso si possa usare anche così proprio per idratarsi la pelle ogni tanto per rinfrescarsi lo usi e boh non spronza troppo perchè la cellulina è profumo e tutto diventa scemo ecco appunto e poi ho preso questo setting spray illuminante che devo dire non ho ancora provato quindi sono indici da se rischiare di provarlo in diretto speriamo bene mai preso neanche un setting spray? allora agitare e mettere a 30 cm di distanza vabbè vabbè poi ultime due cosine che ho preso sono questo pennello che mi piaceva tantissimo proprio l'estetica è un pennello da bronzer è bellissimo è bellissimo veramente bello è sporco e poi ho preso un prodottino molto interessante che ho provato per la prima volta oggi e comunque mi sono trovata molto molto bene perchè fa un volume incredibile ragazzi ed è un primer per le ciglia bianco quindi zig zag 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 veramente mi sono preso molto da un sacco di volume approvatissimo ok ok questo era il mio olme capposo spero che il video vi abbia rilassato e spero che l'audio non sia stato terribile io vi mando un bacione enorme vi voglio bene vi voglio bene vi lascio un po' di tapping sul tasca e un po' di bronzolite allo stomaco buonanotte 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 riposati che domani è una nuova splendida giornata ricaricati hai bisogno di energia riposati spero tu abbia una bellissima nottata che ti spera rispondoso 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 Grazie a tutti